Si chiama Musa ed è un ragazzino albanese di 15 anni che deve la sua seconda vita ai medici del Gaslini di Genova. Era giunto nel capoluogo Ligure 5 mesi fa in condizioni disperate e praticamente in stato vegetativo. Dopo aver rischiato di annegare nel largo di Scutari in Albania, nell'agosto scorso, il suo cervello era rimasto senza ossigeno e le sue funzioni vitali erano ridotte al minimo. I suoi genitori hanno attuato una raccolta fondi per portarlo a Genova e dopo 5 mesi di ricovero nel centro specializzato per bambini e adolescenti, ora Musa parla e cammina e potrà tornare a una vita normale. Un risultato eccezionale ottenuto grazie alla perseveranza e alla sincronia di medici e infermieri di gastroenterologia, riabilitazione e ortopedia del Policlinico Pediatrico Genovese. Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale del Gaslini Paolo Petralia, dal presidente della regione Giovanni Totti e dalla vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale, che hanno parlato del Gaslini come di un orgoglio per tutta la Liguria. Ogni anno il Gaslini assiste migliaia di bambini in arrivo da tutta Italia e da oltre 74 paesi nel mondo.